Nuova puntata di ASI World in programma da lunedì 30 maggio alle ore 20 e 45 ASI Moto Show, mille motociclette invadono Barano dei Melegari Giro di Sicilia, nuova e immancabile tappa del circuito tricolore Assemblea ASI a Roma tra passato e futuro Ricordate ASI World è visibile su Sky Sport canale 229, sul digitale terrestre al 402, su TVSAT 55 è visibile in replica quotidiana e sul web a partire dal martedì Grazie a tutti!